Telefonini sequestrati dalla squadra mobile di Venezia donati alla Fervi Credo, l'associazione vittime, feriti della criminalità e del dovere, fondata da Mirko Schio, vittima nel 1995 di una sparatoria Marghera. Una consegna simbolica, significativa, che si aggiunge all'attività costante dell'associazione. C'è stato tutto un percorso, che è durato più di un anno, con il quale abbiamo collaborato per esentare le pensioni dall'IRPEF per le vedove e gli invalidi vittime del dovere e i loro familiari. Quindi, ad esempio, c'era una forte discriminazione nei confronti degli altri lavoratori del comparto privato, dove le rendite vitalizie INAIL per vedove e invalidi erano esenti IRPEF. Mentre la vedova del poliziotto o del vigile del fuoco deceduto in servizio o rimasto permanentemente invalido pagavano l'IRPEF. Quindi, la cosa mi era stata segnalata da diversi nostri associati, una signora in particolare, la vedova di un poliziotto, la quale diceva io sono stata costretta, perché mio marito è mancato molti anni addietro, quando tante cose che oggi esistono, per fortuna, non erano previste. Io sono stata costretta ad andare a lavorare per portare avanti la famiglia e adesso mi vedo la mia pensione, quella di mio marito, dimezzata per il fatto che poi i due trattamenti si cumulano. Quindi dal primo gennaio di quest'anno è stata anche tolta questa grossa disparità e una cosa comunque molto equa. Cos'altro si può fare? Allora, noi stiamo lavorando da anni per una totale equiparazione tra le vittime. Purtroppo ci sono diverse leggi che hanno origine dal 1980 all'ultima, questa dell'IRPEF del 2016, che hanno reso le vittime differenti l'una dall'altra. Quindi abbiamo le vittime del terrorismo, faccio l'esempio degli appartenenti alle forze dell'Uni, che mi è più semplice. Però il poliziotto ucciso dal terrorista e i loro familiari hanno un tipo di riconoscimento, di trattamento, benefici che sia di carattere economico ma anche previdenziale. La vittima della criminalità organizzata ha un altro trattamento, la vittima del dovere, prendo ad esempio i vigili del fuoco, la vedova dei vigili del fuoco, ha un altro trattamento ancora inferiore. Quindi da anni ci battiamo perché tutte le vittime, lo diciamo sempre, che il poliziotto piuttosto che il vigile del fuoco non decide da chi farsi uccidere o come morire. Le vittime sono tutte uguali. Certezza della pena e revisione della legge sulla legittima difesa per una giustizia. Delle leggi veramente valide, con una certezza della pena. Il problema è sempre quello, non si può... le forze dell'ordine, polizia, carabinieri fanno di tutto. O adesso o dopo, io lo dico sempre, anche a distanza di anni, tutti i nodi arrivano al pettine. Ma se poi noi poliziotti, parlo per me, che ero un ex poliziotto, o carabinieri, moriamo per assicurare giustizia a queste persone e l'indomani questi vengono messi in libertà, capirà benissimo che possiamo avere tutte le armi che vogliamo, però la sicurezza vera e propria non l'avremo mai. Lei sente di aver avuto giustizia? Questo è un altro capitolo. Diciamo che io ho avuto giustizia perché, anche se dopo tempo, le persone che sono state comunque responsabili del mio conflitto a fuoco sono state assicurate alla giustizia e hanno pagato per quello che la legge prevede. Poi il fatto della giustizia, da un punto di vista della pena in sé, è un altro discorso. Diciamo che però, per le norme che vi sono oggi in Italia, sì, moralmente per quello che mi è successo non penso che ognuno di noi si senta comunque pagati anche da una pena, anche che fosse dell'ergastolo. Nessuno più mi potrà restituire quello che mi è stato tolto.